Beppe, il 7 marzo il Movimento va a Roma dal Papa, tu perché sarai in piazza a Roma? Sarò in piazza a Roma con mia moglie e i miei quattro figli, ma vado perché è un invito a dire, come se mi sono detto, andiamo a trovare mio papà, andiamo a trovare mio padre, perché effettivamente è così e voglio far vedere prima di tutto a me e ai miei figli quello che cerco io di seguire, un padre che mi aiuta a vivere, questo è il motivo. Come ti stai preparando a questa udienza? Sto preparando, leggendo la lettera che Caron ha scritto alla Fraternità, l'unica mia preparazione è veramente un'attesa, chissà cosa succede di bello, perché succederà se è veramente qualcosa di bello e l'unica mia preparazione è vivere quello che comunque da qui a lì dovrò vivere, lavorare con la mia famiglia, la scuola e la comunità, vivere con una grande domanda e una certezza che vado da un padre, questo è quanto e quindi sono contento di andare. Grazie, grazie a te, ciao.